Sono sempre legato al mondo dello sport, dello stare insieme e del sociale. Giocare senza barare è una regola, è quello che dovrebbe essere corretto per tutti. Quindi questo è il titolo che gli abbiamo voluto un po' dare alla giornata, perché la mattina avremo come ospite di Montevarchi Sandro Donati insieme a un altro campione, Stefano Donati è colui che ha allenato la nazionale italiana, è un grande allenatore che ha avuto anche un grande merito, essere uno tra i primi allenatori, tra i primi sportivi e avere il coraggio di denunciare il doping, che è veramente la più grande malattia dello sport in Italia. Nel mondo, per favore. Sì, io mi sono fermato, non volevo esagerare, però è nel mondo. Il potere avere un personaggio che ha allenato grandissimi campioni, che continua tuttora ad allenare pulito grandi campioni, è importante far incontrare i giovani, perché poter avere la possibilità di spiegare ai ragazzi del liceo sportivo di Montevarchi quello che è il vero sport, quello che è la vera fatica, quello che è il vero obiettivo, quello che è l'agonismo, ma raggiungendolo con le proprie possibilità è sicuramente molto più educativo che portarli da altre parti. Parlare di sport e a volte non arrivare primi, a volte subire la sconfitta è estremamente educativo, fa parte della vita. Quindi